Ho deciso di rinnovare la mia camera da letto e ho trovato finalmente due piccoli tavolini che sono perfetti per far da comodino Utilizzerò dei fregi ad arricchire questa parte Togliere la colla in eccesso Il primo tavolino è finito Parto con il secondo tavolino Lo plasmo I miei fregi sono perfettamente incollati quindi parto con la prima mano di colore Seconda mano di colore È arrivato il momento di applicare il decoupage E inizio spalmando direttamente il protettivo Lo applico Ora metto il decoupage sul secondo tavolino Passo la cera trasparente Inizio ad antichizzare i miei tavolini Creo un qualcosa che si è bianco oro Prendo pochissima pasta, la metto nel mio piattino La miso con un goccino di infuser, miscelo e dono tocchi di luce Al prossimo restyling Ciao